Emendamenti, analisi dell'articolato, confronti e convergenze tra forze politiche diverse. Va avanti in commissione l'esame in sede referente del PDL presentato dal segretario Lonfernini sul diritto dell'informazione e dei media. Diverse le questioni su cui i partiti si interrogano. Ieri i lavori erano stati sospesi sull'articolo 9 relativo alla consulta per l'informazione. Già nel dibattito iniziale era stato sollevato il problema della definizione di chi sia giornalista e quale attività possa essere considerata giornalismo o no. Discussione ripresa oggi pomeriggio dall'articolo 10 sull'autorità garante per l'informazione con il confronto tra Libera, che con un emendamento poi respinto, proponeva di far indicare il presidente dell'organismo alla consulta per una maggiore autonomia e Lonfernini che invece assicura con la nuova legge un corretto rapporto tra governo ed enti istituzionali. Sempre sul fronte opposizione, RF si sofferma sul ruolo dei blog e chiede cosa succeda ai siti che danno notizie, pur essendo, spiega il partito, completamente scollegati da monitoraggio e valorizzazione delle professionalità. Dopo un confronto si è arrivati a un emendamento bipartisan approvato, che prevede il controllo dell'autorità anche per i siti che diffondono con continuità informazioni su San Marino. Rete cita, ad esempio, il caso di un blog che pubblica notizie di gossip sulla vita privata di persone pubbliche. Si è passati poi all'articolo sulle testate online, sei gli emendamenti tra minoranze e governo, articolo che, come spiegato da Lonfernini in aula, si collega alle riflessioni dei partiti sulle responsabilità di chi scrive sul web. Rete cita, ad esempio, Rete cita, ad esempio,